ragazzi sono a milano ho appena fatto rischiato di prendermi a pugni con due ragazzetti che all'uscita della metropolitana stavano stavano con la scusa di aiutare una signora straniera a portare su il passeggino io ero dietro e uno di questi stava infilando la mano nella borsa allora io ho la borsa questi si sono girati e volevano fare rissa con me per strada nessuno è intervenuto ovviamente perché adesso quei tempi che corrono non biasimo la gente perché 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 ovviamente intervieni e rischi una coltellata infatti uno di questi ha detto adesso tiro fuori la gilette la lametta peccato che gli ho dato un cartone in faccia che l'ho tramortito però niente state attenti ormai neanche se ti offrono un aiuto puoi stare tranquillo quindi occhi aperti non so neanche se consigliarvi di fare quello che ho fatto io cioè di intervenire perché se non hai i nervi saldi e soprattutto se non se non riesci a reagire in modo tempestivo te la devi cavare da solo ciao ragazzi occhio